Coronavirus appolla tampone positivo per una donna, sanificazione dei locali ed emergenza personale in vista del picco di contagi. Coronavirus in arrivo 80 nuovi posti letto in Campania. Coronavirus dall'associazione Amodiano parte una raccolta fondi per il curto di Polla. Per di fumo, evasione fiscale, la Guardia di Finanza sequestra bene alla Fondazione Giambattista Vico. Rifiuti, Battipaglia dice basta, chiede l'esercito per sorvegliare la Piana del Sele. Buongiorno e bentrovati. Fa discutere la vicenda che ha visto protagonista all'ospedale di Polla con una donna. Risultata positiva al tampone del Covid-19 ma che inizialmente era stata dimessa perché il tampone pare fosse risultato negativo. a preoccupare in particolare ora è la carenza di personale a disposizione del Luigi Curto. Dato che sono 23 i sanitari in quarantena tra medici, infermieri ed operatori sociosanitari. Un problema ancora più grave se si considera che per gli esperti ci sarà il picco di contagi in Campania che dovrebbe arrivare per la prossima settimana. Partiamo così. Ospedale di Polla sanificato e personale in quarantena in attesa di riuscire ad effettuare i test su quanti sono stati a contatto con la 38enne calabrese, giunta nel presidio ospedaliero pollese alcune sere fa dopo aver accusato un malore mentre era in viaggio per tornare a casa. La donna era stata fatta scendere dal bus su cui viaggiava e trasportata presso Luigi Curto era stata messa in isolamento in attesa dei risultati del test. A distanza di poche ore nell'ospedale si diffondono notizie contrastanti sul caso. Tra la tarda serata di mercoledì e la prima mattinata di ieri per la donna arrivano notizie di tampone negativo al Covid-19. La donna viene quindi dimessa e torna a casa con un familiare che era andata a prenderla. Nella tarda serata di ieri arriva il controordine. Il risultato del tampone effettuato sulla donna è positivo ed è caos nell'ospedale di Polla con il direttore sanitario che prende immediatamente in mano la situazione per ristabilire un ordine tra mille difficoltà dovute in primis alla carenza di personale. Disposta all'immediata sanificazione degli ambienti e ricostruzione e celere del piano dei contatti della donna sia all'interno della struttura ospedaliera che all'esterno. Notte di lavoro quindi a Luigi Curto finalizzata a garantire l'assistenza a tutti i pazienti in arrivo e in pronto soccorso per varie patologie. Il direttore sanitario, il dottor Luigi Mandì, ha disposto alla messa in quarantena del personale che ha avuto contatti con la paziente, tra cui tre medici del pronto soccorso, tecnici radiologi e personale infermieristico per un totale di 23 persone. Un numero elevato di operatori sanitari in isolamento che se da un lato garantiscono la salute di quanti operano all'interno dell'ospedale e dei pazienti che ricorrono all'assistenza sanitaria, dall'altro però mette a dura prova la tenuta del servizio, riducendo la disponibilità del personale da sempre in grave carenza. A tal proposito il direttore sanitario si sta attivando per individuare personale sanitario da inserire in organico in questo momento di emergenza e per reperire al più presto i kit tampone da effettuare sul personale in isolamento al fine di individuare eventuali casi accertati o sanitari negativi che possano riprendere l'attività lavorativa, in considerazione anche dell'approssimarsi dell'emergenza con il picco di contagi atteso in Campania per la prossima settimana. Individuati i partecipanti al raduno religioso ora in isolamento fiduciario, sono in corso tutti gli accertamenti necessari, monitoraggio in primis, previsti dai relativi protocolli, aggiorneremo appena avremo notizie ufficiali. Questo è il messaggio che è apparso ieri sera sulla pagina Facebook ufficiale dell'amministrazione comunale di Sala Consilina che aveva invitato ad autosegnalarsi tutte quelle persone che erano state ai raduni religiosi nel Vallo di Viano, comunque in contatto con il 76enne di Bellizzi deceduto e risultato affetto da coronavirus. Andiamo avanti. Contro l'emergenza epidemiologica in Campania arrivano in questi giorni 80 nuovi posti letto, di cui 30 in terapia intensiva. sono i primi risultati della task force regionale per adeguare l'offerta sanitaria all'emergenza in corso. Per fronteggiare il coronavirus e rendere gli ospedali sempre più pronti a rispondere all'emergenza sanitaria, la Regione Campania attiverà in questi giorni 80 nuovi posti letto, 30 andranno ad incrementare i posti in terapia intensiva e 40 saranno attrezzati per malattie infettive e pneumologia. Sono i primi risultati del lavoro della task force della Regione Campania per adeguare l'offerta sanitaria all'emergenza Covid-19. Stiamo procedendo con gli acquisti delle tecnologie, spiega Roberta Santaniello, dirigente della Regione che segue i contatti con le aziende per gli acquisti effettuati dalla Soresa. Abbiamo definito il fabbisogno di attrezzature per raggiungere l'obiettivo dei nuovi posti letto fissati dalla Presidente De Luca e ora siamo partiti con gli acquisti. Il governatore della campagna nei giorni scorsi ha infatti fissato l'obiettivo di raggiungere 590 posti di terapia intensiva in campagna, stanziando una prima tranche di 20 milioni di euro per gli acquisti. Santaniello ha spiegato che si punta a realizzare buona parte di questo obiettivo entro fine marzo. Siamo partiti, spiega, con l'acquisto dei macchinari per la ventilazione e tutto quanto serve nelle terapie intensive. Abbiamo chiuso l'acquisto di 15 set di apparecchiature per altrettanti nuovi posti di terapia intensiva, poi di volta in volta le strutture sanitarie della Regione decidono dove attivare il posto letto. Quattro posti di terapia intensiva costano circa 500-600 mila euro per tutte le attrezzature e i letti. Ci stiamo muovendo, conclude Santaniello, anche per le mascherine e altri prodotti utili. Dall'Associazione Teggianese Amodiano e un gruppo di ragazzi del territorio è partita la raccolta fondi per sostenere le attività del Luigi Curto di Polla in questa fase delicata legata al coronavirus. Vediamo. L'Associazione Teggianese Amodiano, preseduta da Maria Rita Di Sarli, attiva anche nel sociale. Lo dimostra in questo momento di emergenza coronavirus che sta mettendo a dura prova a tutto il sistema sanitario nazionale. Dietro sollecitazione di un gruppo di ragazzi del territorio ha fatto partire una raccolta fondi a favore dell'ospedale Luigi Curto di Polla per sostenerne le attività in questa fase delicata. Anche il Vallo di Diano aggancia così la gara di solidarietà che sta correndo sul web tramite il portale gofundme.com dove si concentrano le principali, ad oggi oltre 200, campagne di crowdfunding da destinare agli ospedali italiani. I cittadini interessati a sostenere Luigi Curto potranno fare una donazione con pochi e semplici passaggi dalla piattaforma digitando nella ricerca Covid-19 Polla o direttamente attraverso un versamento sul conto corrente dell'Associazione Amodiano, indicando nella causale sostegno ospedale Polla Covid-19. Per tutte le informazioni si può far riferimento all'Associazione. Non si chiedono grandi cifre, dichiara la Presidente Maria Rita Di Sarli, bastano pochi euro. Un piccolo gesto a sostegno di chi sta combattendo in prima linea per salvaguardare la nostra salute. sarà possibile monitorare in tempo reale la somma raggiunta sul portale, mentre sulla nostra pagina Facebook saranno resi pubblici gli importi raggiunti sul nostro conto corrente bancario. Ringraziamo chiunque appoggerà con il suo contributo questa causa nel segno dell'appartenenza e dell'impegno solidale per la comunità. Il Vallo di Diano anche questa volta si sta mostrando cambione di solidarietà. Partita ieri in tarda serata l'iniziativa solidale ha già portato alla causa oltre 1000 euro in pochissime ore. E contro la diffusione del coronavirus anche per le chiese arrivano nuove restrizioni. Il Vescovo della Diogesi di Teggiano Policastro, Monsignor Antonio De Luca, ha annunciato la chiusura dei luoghi di culto adattandosi così ai provvedimenti presi dalla CEI. A ciascuno, dicono dalla CEI, viene chiesto di avere la massima attenzione perché un'eventuale sua imprudenza nell'osservare le misure sanitarie potrebbe danneggiare altre persone. di questa responsabilità può essere espressione anche la decisione di chiudere le chiese. Questo non perché lo Stato ce lo imponga ma per un senso di appartenenza alla famiglia umana esposta ad un virus di cui ancora non conosciamo né la natura né la propagazione. e il Vescovo De Luca ha annunciato quindi di aver deciso con sofferenza ma anche con ferma fiducia nella misericordia di Dio di disporre la chiusura di tutte le chiese. Andiamo avanti. Due milioni di euro a disposizione per le famiglie e le imprese in questo periodo di emergenza epidemiologica. La BCC di Buonabitacolo aderisce alla moratoria di Abi destinata alla gestione di mutui e finanziamenti. La BCC di Buonabitacolo aderisce alla moratoria di Abi a sostegno dei clienti in difficoltà e mette a disposizione 2 milioni di euro per famiglie e imprese al fine di infondere fiducia e positività in questo periodo di emergenza epidemiologica. La moratoria a cui è aderito la storica banca di credito cooperativo di Buonabitacolo riguarda finanziamenti a micro, piccole e medie imprese danneggiate dall'emergenza Covid-19 con sospensione del pagamento della quota capitale e delle rate dei finanziamenti che può essere chiesta fino ad un anno. La sospensione è applicabile a mutui e anche perfezionati tramite rilascio di cambiali agrarie e ad operazioni di leasing immobiliare e mobiliare con la sospensione della quota capitale implicita dei canoni di leasing. Il periodo massimo di estensione della scadenza del finanziamento può arrivare fino al 100% della durata residua dell'ammortamento. Per il credito a breve termine, il credito agrario di conduzione, il periodo massimo di allungamento è rispettivamente di 270 e 120 giorni. L'accordo consente inoltre alle banche di applicare misure di maggior favore per le imprese ed auspica per assicurare tempestività nelle risposte e l'accelerazione delle procedure di istruttoria. La BCC di Buonabitacolo ha deciso di stendere la moratoria anche alle famiglie. Un totale di 2 milioni di euro a disposizione della clientela sotto forma di mutui a tasso agevolato e senza ulteriori spese erogabili in 48 ore. Siamo la banca del territorio, dichiara il direttore generale Angelo De Luca, e come sempre presentiamo il dovere di essere vicini ad imprese e famiglie in questo momento di grande difficoltà. Siamo certi che insieme supereremo questo momento, insieme ce la faremo. Il direttore De Luca inoltre invita tutti a rispettare le regole imposte per ridurre il contagio, a cui peraltro l'istituto di credito si è adeguato con la sanificazione dei locali e la messa a disposizione dei clienti all'ingresso di presidi sanitari di prevenzione e sanificazione per l'igienizzazione. Tutti, continua De Luca, dobbiamo dare prova della nostra forza. L'invito è di rispettare tutte le prescrizioni imposte dal governo per evitare il diffondersi del coronavirus. I nostri dipendenti sono a disposizione per fornire ogni informazione utile alle diverse operazioni bancarie per quanto possibile da realizzarsi in modo telematico, evitando così gli spostamenti. Insieme, con grande determinazione e coraggio, vinceremo anche questa sfida. Per ulteriori informazioni sulla moratoria è possibile contattare telefonicamente tutte le agenzie della BCC Buonabitacolo, Sanza, Montesano, Padula e Lago Negro, evitando di andare personalmente in banca. Quattro studenti e un operatore socio-sanitario di età compresa tra i 22 e i 26 anni sono stati denunciati sia per inosservanza delle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza coronavirus che per uso personale di sostanze stupefacenti avevano organizzato un festino a base di alcol e droga a Casalbuono, ma sono stati scoperti dai carabinieri. erano all'interno di una struttura, di un'ex struttura ricettiva. Andiamo avanti con la cronaca. Due amministratori e tre imprenditori accusati di evasione fiscale e distrazione di fondi pubblici a Perdifumo, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato beni per 1.800.000 euro alla Fondazione Gian Battista Vico. Grossi guai per la nota Fondazione Gian Battista Vico di Vatolla, frazione di Perdifumo. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni fino alla concorrenza di circa 1.800.000 euro emesso dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta di questa procura nei confronti della stessa Fondazione, dei due rappresentanti legali succedutesi nel tempo e di tre imprenditori agropolesi per i reati di frode fiscale e truffa gravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'operazione, denominata Vico Nero, è scaturita da un controllo fiscale nei confronti della nota Fondazione, con sede a Vatolla di Perdifumo in provincia di Salerno, sul conseguimento di finanziamenti erogati dalla Regione Campania per quasi 300.000 euro per lo sviluppo di imprese innovative nel settore del turismo sostenibile e regenerativo e nelle attività correlate. Le fiamme gialle della Compagnia di Agropoli hanno accertato che la Fondazione, pur di accedere al contributo regionale tra il 2014 e il 2016, ha utilizzato delle fatture false emesse da tre imprenditori cilentani, tra questi il figlio di uno dei rappresentanti legali dello stesso ente no profit, per un importo pari alla somma poi percepita. Avrebbero ricevuto una fornitura di computer e arredi che in realtà non sono stati rinvenuti dai finanzieri presso la sede della Fondazione, non essendo stati mai acquistati. Le indagini finanziarie hanno pure consentito di constatare che la Onlus ha emesso di dichiarare redditi per quasi 4 milioni di euro, con un'evasione di imposta di circa un milione e mezzo di euro. Inoltre, i rappresentanti legali della Fondazione hanno gestito i conti correnti in maniera del tutto personale, con bonifici effettuati a proprio favore, senza alcun motivo valido. I militari hanno inoltre accertato che uno degli amministratori ha ceduto 26 quadri di valore, di cui 11 del noto pittore Giovanni Battista Piranesi, nonché 10 cartine geografiche antiche, ad una società in liquidazione riconducibile a lui e alla moglie, senza che la Fondazione abbia ricevuto in cambio alcun corrispettivo. Contestualmente all'esecuzione del provvedimento cautelare, questa Procura della Repubblica ha disposto la perquisizione della sede della Fondazione e di altri locali nella disponibilità del rappresentante legale, allo scopo di rinvenire denaro, preziosi e altri beni mobili, oltre che documentazione bancaria utile ad individuare ulteriori disponibilità finanziarie. Sono state sottoposte a sequestro le somme di denaro rinvenute sui conti correnti dei cinque indagati e il castello Palazzo de Vargas, di proprietà della Fondazione Giambattista Vico, sito nel comune di Perdifumo, con i relativi arredi per un valore pari alla piena concorrenza della somma indicata nel decreto. Ci fermiamo per la pubblicità. Bentornati in studio, il Governatore Vincenzo De Luca ha richiesto l'esercito per controllare il rispetto delle prescrizioni in tema di coronavirus. Il Comitato Battipaglia dice basta, approfitta della richiesta per invitarlo ad utilizzare l'esercito per la Piana del Sele, ma per controlli in materia di rifiuti. Vediamo i dettagli. L'esercito, richiesto da De Luca per i controlli sul rispetto dell'obbligo di restare a casa per il coronavirus, venga utilizzato anche per sorvegliare gli impianti di rifiuti nella Piana del Sele dopo gli incendi dei mesi scorsi, anche dopo l'ultimo episodio degli ultimi giorni a Sarno e per la piaga dei miasmi. Invito al Presidente della Regione Campania da parte del Comitato Battipaglia dice basta. Egregio Presidente De Luca scrive su Facebook l'attivista Lidia D'Angelo. Apprendiamo dalla stampa che lei ha chiesto l'intervento dell'esercito in campagna per controllare il territorio. Su questo siamo d'accordo con lei. Ancora molte persone non si rendono conto della gravità di questo virus se non adottano tutte le precauzioni necessarie ad evitare il contagio. Ma sa, noi a Battipaglia continuiamo a vivere un ulteriore dramma che ci accompagnava già prima del coronavirus e in questi giorni rende ancora più pesante la quarantena forzata. Ogni sera andiamo a dormire speranzosi che il giorno dopo possa cambiare qualcosa e ogni mattina quando ci alziamo apriamo le finestre e facciamo i conti con la solita puzza di immondizia acida. Allora le chiediamo, visto che c'è, l'esercito lo faccia venire anche per presidiare gli impianti di rifiuti. Se per il coronavirus in campagna corriamo il rischio di avere il collasso del sistema sanitario per la cattiva gestione del ciclo dei rifiuti, state negando un'esistenza libera e dignitosa a famiglie enermi che non si sentono affatto protette. Ci mandi l'esercito ma per davvero faccia controllare sempre tutta la lavorazione degli impianti di rifiuti, tutte le entrate e le uscite di umido, di compost e coballe perché non vorremmo mai che con l'attenzione assolutamente giusta al virus si rallenti su altri aspetti. La banca Montepruno si adegua alle direttive governative finalizzate alla riduzione dei contagi da covid-19. In questo periodo in cui i servizi bancari saranno comunque assicurati adotterà nuovi orari di apertura, fermo restando il suggerimento di cercare di limitare al massimo il ricorso allo sportello e di preferire invece i servizi telematici per le proprie operazioni a partire fino al 3 aprile. Con possibili proroghe, gli orari di apertura al pubblico degli uffici e delle filiali sono fissati solo nella mattina dalle ore 8.30 alle ore 13.30, solo per operazioni urgenti e inderogabili. Gli uffici amministrativi, gli uffici di sede e di filiale, i preposti non riceveranno presso le loro sedi la clientela, bensì saranno disponibili ai numeri telefonici delle diverse sedi e via email. E misure di contenimento del contagio adottate anche presso il centro analisi biochimica che modifica l'apertura dei propri centri con sede ad Atena Lucana, Padula e Battipaglia. Anche qui fino al 3 aprile i centri saranno aperti dalle ore 7.30 alle ore 12 con la garanzia di effettuazione dei prelievi ematici e possibilità di ritirare i referti. Tutti i pomeriggi fino al 3 aprile le sedi del centro biochimica resteranno chiuse. Il sabato disposta alla chiusura sia di mattina che di pomeriggio. Andiamo avanti. Per favorire le pari opportunità ad Atena Lucana è stato adottato il piano triennale delle azioni positive. Vediamo. Ad Atena Lucana contro le discriminazioni di genere è stato adottato il piano triennale delle azioni positive, adattandosi alle disposizioni vigenti a livello nazionale che vogliono le amministrazioni dello Stato predisporre tali piani per assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne favorendo così il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche dove c'è un divario fra generi non inferiore a due terzi. E ad Atena Lucana il divario c'è la struttura organizzativa del comune ad oggi vede una preponderanza di personale maschile pari al 90%. Ai dipendenti va aggiunto il segretario comunale che è donna e per quanto riguarda gli organi politici in giunta è presente una sola donna. Data la situazione è necessaria una particolare attenzione al fine di assicurare la piena realizzazione di pari opportunità e si procederà proprio attraverso l'aduzione di azioni positive ovvero una serie di iniziative specifiche, l'organizzazione dei servizi e i tempi di funzionamento del comune. La riorganizzazione prevista nel piano riguarda seminari di formazione, commissione di concorsi, assunzioni, conciliazione fra vita lavorativa e privata, info pari opportunità sul sito del comune, rientro dai congedi parentali, orario di lavoro. Tutte azioni mirate a produrre effetti concreti a favore delle proprie lavoratrici e al tempo stesso sensibilizzare la componente maschile rendendola più orientata alle pari opportunità. Inoltre sarà istituito il comitato unico di garanzia che dovrà monitorare sullo stato di attuazione del piano. Il comune di Piaggini aderisce alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale e al libro bianco della Commissione europea. Il comune di Piaggini ha deliberato l'adesione alla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, al libro bianco della Commissione europea e alla risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 che prevede obiettivi comuni sulla partecipazione e informazione dei giovani. Tutto parte dalla considerazione che la partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e alle attività a livello locale e regionale è essenziale per costruire società più democratiche, più solidali e più prospere. L'impegno del comune di Piaggini, retto dal sindaco Guglielmo Vairo, è dunque quello di promuovere e mettere in opera le varie forme di partecipazione giovanile, di concerto con i giovani e con i loro rappresentanti, tra cui i forum comunali. Un atto importante per ricordare ai ragazzi che partecipare alla vita democratica di una comunità non significa solo, per quanto importante, votare o presentarsi a delle elezioni, ma vuol dire avere il diritto, i mezzi, la possibilità di intervenire nelle decisioni, influenzarle e impegnarsi in attività e iniziative che possano contribuire a costruire una società migliore. Gli enti locali e regionali, che sono le autorità più vicine e giovani, nell'incoraggiare la loro partecipazione, contribuiscono anche ad integrarli nella società, moderna, aiutandoli ad affrontare le difficoltà e le sfide della società moderna. I principi e le forme di partecipazione previsti dalla Carta europea sono rivolti a tutti i giovani senza discriminazione, dunque viene data particolare attenzione alla promozione della partecipazione alla vita locale e regionale da parte di giovani provenienti dai ceti più svantaggiati o appartenenti a minoranze. È tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi anche oggi, buon pomeriggio.